Il pomello della porta? Idea interessante. La Bibbia sembra che sia stata manipolata. È possibile. Forse l'ha trovata. Io ne dubito. È nel cassetto? Stia a guardare. Sembra così sicuro. Sicuro? Sicuro che la troverà? Non sono sicuro al cento per cento, ma sono sicuro del fatto che se dovesse riuscire a trovarla sarebbe troppo tardi. È vicino al tavolo? Sta controllando il letto. L'ha nascosta lì, vero? Nel letto? Fuochino, Boris. Ci è andato vicino, ma non lì. Allora dov'è? Per favore, commissario, me lo dica. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo adesso? È al telefono. Pensavo che... Cosa pensava? Il telefono. Fuoco, Boris. Come all'inferno. Il telefono? Precisamente. Il telefono. Ma... Ma... Ha appena sollevato il ricevitore? Esatto. Ha sollevato il ricevitore per chiamare. Se invece il telefono del maggiore dovesse squillare e lui dovesse rispondere... È così. Quindi, se lui dovesse rispondere al telefono, allora... Ah, c'è arrivato, amico mio. Se il telefono del maggiore squilla e lui risponde... Ho inserito una bomba al plastico all'interno del meccanismo. L'esplosione... L'esplosione è assicurata. Dopo lo squillo lui alzerà il ricevitore. E a quel punto il maggiore Kuchenko non avrà nemmeno il tempo di dire pronto. L'esplosione è assicurata. Masilov! Mi uccide!